Il Ministero delle Finanze ha accreditato alla provincia di Sernia i soldi relativi ai mancati trasferimenti degli anni precedenti. Si tratta di una quindicina di milioni che fanno tirare il fiato agli amministratori di Via Berta. Il famoso decreto ingiundivo che questa provincia ha fatto qualche tempo fa e per il quale ringrazio anche la precedente amministrazione che ha avuto il coraggio di fare questo, finalmente è reale. Sono stati accreditati una buona parte di quella somma, di 15.800.000 euro, sono stati accreditati 13.600.000 euro. Nei prossimi sette giorni sarà accreditata la differenza, sono altri 2.400.000 euro e poi successivamente addirittura vedremo riconosciuti anche gli interessi per altri circa 4 milioni di euro. Questo in qualche modo consente a questo Ende che ha avuto grosse difficoltà, io l'ho detto in conferenza stampa, ho avuto anche momenti di grossa perplessità nell'andare avanti perché veramente non avevo spazi di manovra, avevo capito che senza questo intervento forte non avremmo potuto avere un futuro come Ende, avremmo dovuto trovare soluzioni diverse. Oggi credo di poter dire, di affermare con certezza, con serenità che questo Ende si tranquillizza per i prossimi mesi, ma io dico anche per i prossimi anni non ci saranno grossi problemi. Potremmo far fronte a tutte le richieste delle imprese che oggi stanno veramente in una situazione devastante quindi pagare materialmente effettivamente le imprese a tutt'oggi e non è poca cosa perché sto parlando del 2015 quindi mettere risorse sul territorio, risorse fresche che ci provengono dal governo e soprattutto mettere anche in sicurezza i lavoratori. Chiaramente con l'arrivo delle risorse finanziarie sarà possibile risolvere tutte le emergenze maggiori tra cui la manutenzione delle scuole è un problema emerso anche in cronaca con il crollo di parte del soffitto nell'aula magna del liceo linguistico di Sernia. Se abbiamo degli istituti, delle scuole che sono ahimè obsolete che hanno probabilmente bisogno di interventi urgenti e questo è sicuramente un intervento urgente oggi con questa possibilità di avere una liquidità di cassa che ci consente di essere tranquilli probabilmente possiamo intervenire in tempo utile quello che non potevamo fare fino a qualche giorno fa.